Il recovery plan è migliorabile, il contributo dei sindacati sarà valorizzato, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando i leader di CGL Cisle Will. Il Premier ha incoraggiato un confronto intenso e costruttivo sulla versione aggiornata del piano, che ha definito migliorata e che, secondo le prime valutazioni, ha detto, con gli investimenti, gli incentivi e le riforme, porterà a una crescita di tre punti di PIL nel 2026. Ma se da una parte Conte va avanti sul recovery plan, dall'altra le tensioni politiche non si placano. Si punta a creare gruppi parlamentari di volenterosi a sostegno del governo e si guarda soprattutto ai centristi, anche se la notizia del segretario dell'Udc Lorenzo Cesa, indagato dalla procura di Catanzaro per concorso esterno in associazione mafiosa che si è dimesso, è arrivata come una tegola sulla maggioranza. Intanto deputati e senatori di Italia Viva hanno espresso preoccupazione sulla situazione di stallo, ribadendo la necessità già espressa nel dibattito parlamentare di una soluzione politica che abbia il respiro della legislatura e offra una visione dell'Italia per i prossimi anni. L'opposizione è salita al colle da Mattarella, ribadendo che questo governo non può andare avanti e l'unica soluzione sono le elezioni. E anche il PD inizia a vedere nero. Il vice segretario Andrea Orlando, intervenendo a piazza pulita sulla 7, ha detto chiaramente che vede vicino il voto. Purtroppo si è ammesso perché è stata buttata all'aria la strada che ritenevamo percorribile e non è stata creata un'altra.